Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Grazie Giù ora Giù subito La sta scappando Non lo farei Prezzi incredibili per voi stimati clienti Grazie 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 Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.